salve ragazzi faccio questo video con un cello di mio padre e niente 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 volevo fare l'argomento principale del video è la deck profile che ho e report di ieri tra le con in palio nuove tin e però volevo anche mostrarvi questo nuovo tappetino che avete visto il video veloce di stamane dove dove la posta che mi arriva da spartan penso mi perdono non so quando riesco a caricare non lo so appena riesco comunque vado stai tranquillo poiché vera chiunque non truffo comunque è questo play mart non lo do da daro excalibur volendo black cross volendo volendo valuto per prezzo in pm sono tutti mint questi tappetini storm e naruto comunque se volete se siete veramente interessati che siete sicuri di comprarlo cento per cento vi faccio un video comunque per far vedere le condizioni e non caricherò molti video in questi giorni in quanto sapete dell'ipod e niente facciamo la deck profile poi velocemente il record ma giocavo rabbit con una card card i due rabbit due guide tour vabbè i gialli non so come mettere il cello forse così comunque poi i gialli il 6 per dei gialli ovviamente c'è tra per di ognuno non pensate ma tre guai va che ho giocato che mi sono stati molto utili c'è chi dice che fan cagare guai va io li vedo tre dissimulatori un sun gun un night assaliant che palle io passavo dall'altra parte un night assaliant un tk è un per è un gorzo che palle ai tre tifoni cazzo se stanno su sono nob stasera due pod che sono queste che mi hanno fatto perdere e voglio mettere le altre ccd ma ne ho tolta solo una e messo una ccd che mi hanno prestato che purtroppo ne ho solo una comunque due lancia a una ccd il force c'è di sicuro l'ho presa e vabbè queste poi due due uno uno e uno extra deck sincro librarian big guy che l'ho calato l'ho calato youtube come cazzo ho fatto non lo so comunque troppo grossa questa carta poi ranco tra greno muzritto un tempo tempo ma in sleviata levi il vabbè c'è di nuovo questo è un gemma perla uno di questo uno di queste doppio dolca doppio dolca doppio laggia doppio laggia e motor e scusate la cosa morica side side ve la show così molto random perché c'ho voglia solo perché solo per voi vabbè le carte si capiscono questi li ho visti contro caustralo non mi cala draghi l'unica volta che sai non mi cala source o bls cioè non è una parola allora iniziamo con il report allora primo turno becco pianta la prima la vince lui in quanto è partito di cioè il primo turno sul terreno c'aveva 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 Catastor e Librarian e vabbè io riesco a evocare l'aggia e vabbè me lo butto giù con Catastor io cioè io al primo turno evoco l'aggia perché sono partito io poi lui mi fa Catastor Librarian e Catastor Librarian poi c'aveva se non sbaglio un Dandelion sul terreno comunque non ricordo bene e vabbè vince lui poi 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 che altro che altro che altro poi ah sì la seconda lui non vede niente vede solo un Max C che setta disperatamente poi vede mangi e trappole inutili contro di me e io sideato l'avevo vista bene la side e la terza finiamo i botti e alla fine riesce a vincere lui in quanto mi ha calato ancora Catastor e non riuscivo a buttarlo giù cioè se resistevo un altro turno pescavo Dark Call niente ok poi secondo turno becco bestia di cristallo e vinco facile 2-0 terzo turno becco Chaos Dragon la prima la vinco io in quanto ho calato l'agia dolca e altre carte quasi in un turno si ho schiappato lol la seconda la vince lui e non sideo detto vabbè la seconda la vince lui la terza sideo metto due virus elettrici vabbè ho messo due virus elettrici e due CID come side e ah e lo snowman e quanto ho tolto tre tifoni una Eevee e non ricordo che altro poi la terza ah stavo dicendo la terza come vi ho detto sideo e riesce a vincere lui in quanto mi cala BLS e sorcio come ho detto prima e io sai i dati virus elettrici li ho visti e lui mi cala BLS e sorcio ovviamente poi quarto e l'ultimo turno vabbè sapevo già che non potevo entrare in top perché c'era gente che ha fatto 3-0 e quindi molta gente che ha fatto 3-0 e vabbè vado contro un six molto molto random di un bambino vinco facile 2-0 e poi non entro in top guardo le partite delle top in top ci sono rabbit wind up plant che è quello che ha vinto contro di me scotti sì vabbè un mio amico top 4 era c'erano wind up rabbit hero e plant plant appunto e i turni erano sì plant versus wind up quel match è troppo bello peccato non avevo non sono riuscito a fare il video se non ve l'ho posto troppe risate ragazzi giaggi il mio avversario continua perché c'è questo mio amico che non è capace di giocare wind up che glielo hanno sbrestato e poi arriva il mio amico molto simpatico del plant giaggi il mio avversario perde tempo e mi insulta giaggi il mio avversario non sa giocare ragazzi se mettevo il video di quella partita è troppo divertente e alla fine vince cazzo vince oddio ah no beh oddio mio ti prego no era no scusate quale era prima in top c'erano che cazzo era contro vabbè c'erano di sicuro wind up di sicuro come si chiama dio mio di sicuro hero poi di sicuro rabbit hero wind up rabbit oddio il quarto chi è penso pianta comunque erano wind up rabbit vince vince rabbit 2 a 1 ai voti e vabbè non era buono di usare wind up lol se no cioè cioè ci poteva fare tk in un turno cioè lo sappiamo fare pure io che non lo so giocare wind up eh non lo so giocare e l'unico mazzo che so giocare bene è rabbit che è facile spasa sul coniglio invece wind up devi fare troppe combo non entrano nella mia testa lol comunque poi hero penso versus ah no ecco entra hieratic di di paolo un mio amico che gioca con monocart cardì purtroppo gliela volevo prestare ma non la usavo io poi e quindi e quindi vabbè se non la usavo io gliela potevo prestare comunque me ne hanno prestato un'altra quindi ho detto paolo mi dispiace ma non te la posso prestare me ne prestano un'altra mi ha detto vabbè fa lo stesso e entra lui in top vince hero contro hieratic vince rabbit contro wind up finale hero rabbit vince hero quindi top 4 è hero rabbit hero rabbit hero primo secondo rabbit terzo wind up e quarto hieratic io sono arrivato quinto che ci vuole fa niente ho vinto un dado molto random lol che altro basta direi che possiamo salutarvici che i tappetini ricordo sono questi questo 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 e questo oh kids ciao 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 ciao